Filippo Chioccarello, 51 anni, di Piovene Rocchette, l'uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto mercoledì pomeriggio a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. L'uomo viaggiava con un conoscente che è rimasto ferito. La loro auto è finita fuori strada e ha terminato la corsa a capovolta. Chioccarello è stato subito soccorso in maniera tempestiva, ma non è sopravvissuto alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno portato all'esterno dell'abitacolo dell'auto e hanno coadiuvato gli operatori del SUEM. Nell'auto viaggiava anche un cane che è stato subito preso dai vigili del fuoco e posto al sicuro.